Molto bene signori, oggi vi voglio andare a parlare del trading e nell'affattispecie vi voglio andare a parlare di come sfruttare le notizie per portarci del guadagno, del grande guadagno. Come mai ben avrete capito e ben saprete il progetto Sir2Million si occupa non solo di farvi vedere nel pratico come facciamo questi quattro business da scalare da 1000€ o 1000$ alla più alta cifra possibile nel minore tempo possibile ma è anche quello di trovare delle scamottage all'interno di quello che possiamo definire l'All Matrix, ok? Quindi la norma per guadagnare di più anche rispetto a questi business che stiamo facendo. Ora voglio parlarvi di quelle che sono le notizie. Avete mai notato per esempio il Tech100, il Nasdaq100 oppure l'SEP500 che sono tutti indici, sono tutti ETF che coppiano indici americani che funzionano in base a quelli che sono tendenzialmente le chiusure di borsa del giorno prima o del giorno corrente delle più grandi 100 nel Nasdaq100, 500 nell'SEP500 aziende. Generalmente Tech o comunque di settori decisamente che portano a grandi utili degli Stati Uniti. Ora, non avete mai notato che certe volte tutto il Nasdaq100, perché voi potete tranquillamente andarlo a spulciare e vedete tutti i suoi componenti che ovviamente il 90% dei componenti del Nasdaq100 sono giusto quelle 4-5 aziende in croce che sono Microsoft, Apple, NVIDIA, Google e poi c'era anche mi sembra comunque qualcun'altra. Comunque sempre nel settore Tech, ok? Quelle che si occupano di gestione di social, di più grandi siti, produzione software, produzione computer, telefoni, qualsiasi cosa, comunque il settore Tech. Quindi, il 90% del valore del Tech100, del Nasdaq100, come anche quello dell'SEP500, è portato da queste 4-5 aziende. Ora, perché alcune volte quando queste 4-5 aziende magari sono quasi tutte o addirittura tutte verdi? Verdi cosa vuol dire? Vuol dire che la loro chiusura di borsa è al più 1%, più 2, anche più 3 o più 4. Quindi vuol dire che sta andando decisamente bene. Più 1%, più 2% che cosa vuol dire? Vuol dire che se un'azione di Apple vale 200, cifra completamente così campata in aria, giusto per farvi capire. Il 2% vuol dire che a inizio sessione valeva 200, adesso vale 204, ok? Ora, se tutte le azioni sono al rialzo, o comunque gran parte sono al rialzo, in linea teorica il Nasdaq100, l'SEP500 dovrebbero decollare. E perché invece alcune volte carollano? Perché invece alcune volte carollano le aziende e il Nasdaq100 invece non ha effetti magari immediati, magari dopo molto tempo, o magari non li ha proprio? Perché in realtà c'è un'altra componente che fa molto, le notizie, signori. Le notizie vi servono soprattutto se volete tradare quelle che sono le onde di liquidità. Cosa sono le onde di liquidità? Sono semplicemente quei momenti dove la volatilità esplode, dove viene immessa una grandissima cifra, miliardi se non triliardi di dollari nel mercato, ovvero sono quei momenti in cui c'è, all'apertura del mercato americano tendenzialmente, la spike che ti va giù dell'1 o anche del 2% e poi quella che ti va su del 4%. Quelli sono momenti, un movimento ad onda, possiamo tranquillamente chiamarlo un movimento a onda di sessa, ovvero un'onda che rimbalza su se stessa, che porta ovviamente con una tendenza poi ad assuefarsi, a tornare alla normalità, alla linea del mercato che poi verrà decisa al seguito di quella che è l'apertura di borsa, al seguito di quelle che sono le pubblicazioni delle notizie. Questa onda, questo movimento di onde che possono durare dai 10 minuti anche fino alle 2-3 ore, sono quel momento in cui se voi volete tradare quella che è la volatilità, quindi semplicemente caricare margini alti senza stop loss e sperare appunto di prenderne una rialzo, fai un buy, ti sale di 100 pip, poi fai un sell di 200 pip, poi un altro buy di 100 pip, sei a posto, hai già praticamente tornato 1000 euro in 2-3 mila, se ti è andata bene chiaramente, perché potresti anche aver berciato tutto facendo così, perché è una pratica, è un movimento molto 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 rischioso, che pochi sanno farlo bene, perché se vai fuori fase, vai fuori sincrono, anche solo di un secondo, tu vendi quando sale, compri quando scende e così praticamente ti mazzi le gambe da solo. Ora, questi movimenti io ve li sconsiglio se avete un budget piccolo, se voi avete 500-1000 euro, tradate come vi dico sempre con l'1% del vostro patrimonio, quindi se ne avete 1000 con 10, 12 euro, se ne avete 2000 con 20-25, se ne avete 3000 con 30-40, tradate con quel patrimonio lì, tradate lungo, ovvero prendete un indice, prendete una materia prima, quello che volete, un forex, qualsiasi CFD, lo tradate lungo, se vi va giù, se vi va in drawdown anche di 1000 euro, va bene lo stesso, fino a che il drawdown non raggiunge il 50%, va bene? Il drawdown sarebbe il momento in cui tu, come saldo, hai sempre la tua cifra, ma l'operazione aperta è in perdita, ok? Finché non raggiunge il 50%, io vi consiglio sempre di lasciarle aperte, perché magari voi avete comprato a 20.000, vi è sceso a 18.000, dite cazzo qui faccio il disastro, perdo tutto, ma poi magari vi risale a 21.000, 22.000, quindi così, fino a che il drawdown non raggiunge, magari 50% poi esagerato, 25-30% di quello che il vostro patrimonio, va tranquillamente bene. Ora, qual è il discorso? Questo è il trading che io vi consiglio da fare, se siete non troppo esperti, se non volete che vi vengano degli attacchi di panico notturni, se non volete che vi vengano degli infarti diurni e o notturni, e se volete chiaramente portare a casa un determinato risultato ogni mese, quasi come se fosse uno stipendio fisso, magari non eccezionale, però comunque costante nel tempo e che va a crescere nel tempo. Se avete un patrimonio dai 3.000 in su, una determinata esperienza, una determinata propensione al rischio, e vi piace anche rischiare, è allora tradarle le notizie, perché vi può portare decisamente anche delle belle soddisfazioni. Però bisogna essere molto attenti, perché qualsiasi notizia può cambiare veramente di tanto. Alle 14.30 escono quelli che sono i report della prima parte, diciamo di giornata, di quelle che sono le aziende, potrebbero anche essere tutti verdi, quindi tutti aspetti che si decolla, però basta che l'Iran mandi un missile a Israele e si crolla, non si decolla. Come? Può succedere il contrario, può esserci le aziende che crollano, può esserci un trattato di pace tra due stati in guerra, il Nasdaq 100 sale, quindi dovete essere sempre, sempre, sempre attenti. Ora, questo è un must, se non avete questi, lasciate perdere, non fatelo, cioè affidatevi a un broker, affidatevi a un personal trader, non fatelo voi, perché se non fate casino. Abbiate almeno due dispositivi, due, che siano un computer e un telefono, che siano due tablet, che siano un tablet e un telefono, un telefono e un computer, qualsiasi cosa, basta che siano due, perché dovete avere aperte nello stesso momento le notizie finanziarie e le notizie politiche, nello stesso identico momento, perché potrebbero uscire anche in contemporanea. Nel momento in cui escono in contemporanea dovete vedere quale ha più peso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se esce un report di la disoccupazione ai minimi negli Stati Uniti, il salario minimo è stato accettato, più 100.000 assunzioni nelle ultime due settimane, tutte le aziende hanno chiuso con degli utili oltre le aspettative, e c'è una notizia di la Giordania ha preso fuoco, è più possibile che l'indice vada su, diciamo un 70-30 come percentuale, quindi in quel caso li comprate, aspettatevi di tradare una sessione al rialzo. Se invece la disoccupazione è stabile, i stipendi sono stabili, i profitti sono normali o un po' sotto le aspettative, e l'Iran scarica 10.000 missili su Tel Aviv tirando laggiù, allora lì aspettati che crolli, il Nasr 100, l'SP 500, tutto quello che è correlato ai Stati Uniti e relativi paesi alleati, anche a livello proprio di esercito militare, aspettati che crolli tutto, perché si va a creare sfiducia in quello che è il futuro, la sfiducia porta alle vendite date dal panico, che porta le persone a voler avere i soldi subito, perché dicono guarda qua succede un disastro, l'indice crollerà, poi quello che ho io come potere monetario si va a dimezzare, prendo subito vendite di massa, vendite da panico, si crolla, quindi lì si vende. Fiducia nel futuro, fiducia in quelli che sono le prospettive, si vede un futuro roseo, si vede quello che sono ritorni economici potenzialmente interessanti, si vede una percentuale del tuo indice che stai investendo, sempre più la rialzo, le persone caricano più soldi, comprano perché vogliono farne di più, e allora qua compri. Semplicemente il trading funziona così, quando capisci quello, capisci tutto. Il trading non sono resistenze, supporti, analisi di qua a destra, sinistra, poi quello vabbè li perdi. Il trading sono notizie. Capisci le notizie, non sbaglia mai mai.